Mi chiamo Enrico Giuliani, ho 35 anni, rappresento l'azienda 8SPA e io mi occupo della direzione generale. Mi sono diplomato in ragioneria, ho continuato poi a studiare materie economiche, mi sono laureato a Parma in economia aziendale. Successivamente ho portato a termine due master, uno in comunicazione e un altro, un MBA in Bocconi. La prima cosa che ho pensato quando ero bambino, come tutti i bambini, sono partito con il calciatore. Poi sostanzialmente quando il tempo è passato, verso i 15-20 anni, ho sentito un attimino qualcosa dentro. La mia passione era quella di essere molto responsabilizzato e l'impresa è un posto che mi ha sempre appassionato e alla fine ho fatto quello che volevo. Una mia grande passione è sicuramente lo sport, sport su tutti i punti di vista. Ho giocato tanti anni a calcio, ho giocato tanti anni a golf, ho praticato windsurf, vela. Sostanzialmente lo sport in genere è un ambito che mi dà molta soddisfazione. Oggi fortunatamente sto portando avanti le medesime passioni extra lavorative e continuo settimanalmente a trovarmi alcuni spazi, credo fondamentali. Gioco a tennis, gioco ancora a golf e questa cosa mi serve tantissimo proprio per scaricare le tensioni. Il mio primo giorno di lavoro è stato un trauma, in quanto appena neolaureato ho deciso di creare una società per conto mio insieme ad un'altra persona. Questa persona, il giorno dell'inaugurazione della nostra società, era un centro benessere che ancora oggi ho e amministro, ha deciso di lasciarmi. Era un medico, era la persona sostanzialmente sul quale io puntavo molto e mi sono trovato sostanzialmente il giorno della festa, dell'inaugurazione, a dover portare avanti un qualcosa che era assolutamente estranea alle mie conoscenze. La cosa più importante che ho imparato iniziando a lavorare è non dare per scontato i dettagli. Oggi, dell'attività che svolgo, mi piace soprattutto il contatto con la gente, mi piace soprattutto vedere nella realtà quello che viene creato. Mi piace fare cose sempre differenti, mi piace vedere l'attività che cresce, che migliora, mi piace vedere i risultati, mi piace vedere i miei collaboratori felici. Nella nostra azienda i giovani hanno un ruolo determinante in quanto portano vitalità, portano energia, sono persone che comunque hanno davanti un futuro, dei sogni e i sogni fanno muovere le persone. Responsabilità e essere molto curiosi. Responsabilità significa diventare terminali stabili, significa ricevere informazioni, elaborarle e portare a termine i compiti che vengono dati secondo le modalità richieste. Il fatto di essere molto curiosi porta a scoprire anche nuove modalità. In un'impresa avere persone responsabili che portano a termine i propri compiti è determinante. Il consiglio che vi posso dare è quello di osservare il mondo. Il mondo ha tutte le risposte, basta osservare bene e creare le domande adeguate alle risposte che abbiamo incontrato. Quindi viaggiare, ascoltare, scoprire, guardare il proprio paese, guardare altri paesi, verificare le varie necessità, verificare come gli altri hanno risposto a queste necessità. E il business e l'impresa nascono automaticamente.